Musica Dunque da casa si sono persi lo spiegone Abbiamo tempo, interrogo l'Omar E' stato disattento e dimmi Omar cosa andremo a fare oggi Ci stiamo scaldando Finito il riscaldamento andremo a fare due minuti il meglio Delle nostre possibilità, al massimo Ok, dove? In sella Giusto Poi Giusto Poi dopo questi due minuti massimali Due minuti di recupero completo Seguono Ok Dopo questi due minuti di recupero completo si sale in zona 4, 80% E abbiamo detto, valutiamo se farli in piedi o seduti o un mix D'accordo Poi Giusto Giusto Recuperiamo un minutino e poi via A ripetere il tutto per 5 volte E le pedalate saranno la base 80% D'accordo Sempre 80% Ma adesso 90% perché è il riscaldamento Eh Non sei stato spento Da casa dicono Avete freddo in palestra? No Fa caldissimo i tropici Lo so Però ci scaldiamo eh Sempre 90% le pedalate al minuto È arrivato anche l'ale eh Sì sì Questa è la undici È l'undicesima lezione Ora Dobbiamo metterci d'accordo sullo sforzo massimale Io direi A parte di farlo in sella Ma Accelerando Quindi noi Ci prendiamo alle nostre 80 pedalate al minuto E poi andiamo ad aumentare la velocità Mantenendola a lungo Il più possibile Deve durare per due minuti Lo sforzo massimale Chiaramente due minuti non sarà massimale Perché non ce la faremo mantenere due minuti al massimo delle nostre capacità Però cercheremo di fare il meglio D'accordo? Ale Sei d'accordo? D'accordissimo Un minutino E poi Si parte Dunque Da casa non arrivano più lunghi delle dirette Voi alle 18.15 Dovete trovarvi sul mio canale Compare la miniatura E tac Cliccate e entrate Bene Aggiungo resistenza Prendo Le 80 pedalate al minuto E ci prepariamo Ci prepariamo Bene Pronti Ok La prima è la più tremenda Perché siamo ancora freddi Manti Accelera E si mantiene Forza Il Meglio Tutto quello che avete In Due Minuti Ricordatevi Tiro e spingo anche qui Forza sulle gambe Tanta Un minuto Ancora Accelero E aumento Aumento Forza To show the world That I can make it right On a bad day On a good day Forza Resisto 20 secondi 15 10 10 10 E stop Tolgo 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 Tengo il ritmo 80 Pedalate al minuto Poca resistenza Recupero Completo Per Due minuti D'accordo? Come va? Benissimo Ero il primo E mancano solo Quattro Avete dato il meglio Ma siete sicuri? Perché se non seguite alla lettera Le mie indicazioni Non vi divertite Dovete seguire Paro paro Quello che dico io Manuela Hai seguito paro paro? Hai dato due minuti Tutto quello che devi? Brava No adesso no Adesso recuperiamo Recupero 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 Mi raccomando Cerco Le 80 Pedalate al minuto E le mantengo Gianluca Che chilometri vuoi? In piedi Ora abbiamo Questo pezzettino qui Cinque minuti Sempre Visto che siamo in piedi Leggeri Leggeri La frequenza cardiaca Si alzerà Pian piano Da sola E se non si alza Da sola La fa danciare Con la resistenza D'accordo? Chiaramente i chilometri Sono soggettivi Perché è vero Che noi andiamo tutti A 80 pedalate al minuto Ma i chilometri La velocità Ma in base È la resistenza Quindi io non posso Dare i chilometri Dell'andatura Ti posso dire Che Mediamente In una lezione Facciamo 30 chilometri Poi dipende Chiaramente Dalla velocità Se facciamo Dell'SFR Andando 50 pedalate al minuto Ne faremo 20 Se Facciamo Una lezione Di pianura Ne faremo 32 33 Anche di più Omar Cosa dice Dice 90 Dice male No no Qui 80 Zona 4 Basta Non 85 80 È sbagliato Beh scendiamo Allora Facciamo due minuti Un minuto Due minuti Un minuto Dai Facciamo così Due venti Ritmo Mantengo Sempre Sempre Due 80 Pedalate al minuto No Può anche chiamare Ma noi stiamo recuperando Può chiamare quanto c'è voglia E Go Due minutini Per I Tizzi Fan Club Ricordatevi 80% 80% Come va? Leggeri Leggeri Senza fare Troppa Fatica Rimango Lì Abbiamo Ancora Un minutino Voi continuate Perché c'è l'archetto Che mi disturba Devo prendere Un mollettino Così non mi cade Rimanete in piedi Tanto c'è ancora tempo Ok D'accordo Siamo quasi 5 secondi 5 secondi E giù Solvo Gozzo E E recupero. Le lezioni, le live, sono sempre martedì e giovedì. Martedì e giovedì. Un minutino. Recupero completo. E poi ci parte. Due minuti dando il meglio. Come è il solito, dice Romar. Certo, come sempre. Inizia per caldo. Meno male. Ci siamo. E chiudo. Abbiamo iniziato un pochettino a ritardo rispetto al grafico, ma non importa. Ve li faccio fare sempre. Due minuti. Aumento, aumento. E do il massimo. Tutto quello che ho. Se è poco in poco. E se è tanto, è tanto. Ricordatevi di dire spingo. Un minuto ancora. 45 secondi. Pronti. Pronti. Quindici. 5 Stop Come va? Siamo scaldati? Asciughiamo il sudore Vediamo, recuperiamo due minuti I've got my feet in the mud and you don't realize With a walk down the alley You've got me twice Caught my eye Caught my hunger And I'm caught in half No, vedo la chat Vedo i messaggi Ma anche voi li potete vedere Basta che li collegate Sul mio canale YouTube E anche voi potreste vedervi Lì si vede anche da lì Ma quello lo trasmette Ok Come va? Manteniamo Le 80 Pedalate al minuto Stancatine Connesso Ragazzi Ho già passato i due minuti Mi ero distratta un attimo Chiudo un pozzo Mi ero distratta Volevo farmi recuperare di più Incolciamente Fortuna che ho buttato l'occhio poi Mantengo Ritmo Abbiamo i cinque minuti Due in piedi Uno a seduto Due in piedi In verità Si vede un goccio anche l'ale Poco puoto Ma si vede L'unico che non si deve bene è il Mauri 30 secondi E scendiamo Leggeri 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 e su un minutino la barbara non riesce a entrare ah sei collegata ma non sia ma me lo puoi dire a voce barbara no guardatevi siete presti come rose eh fortuna che nei prossimi mesocicli non sarò così brava 4 secondi e poi su per due minuti mantengo ritmo tra l'altro il Piero ci aveva promesso che anche da via ci sarebbe ricordato di noi ci sarebbe collegato però qui nel Piero non c'è tratta un minutino non mollo mantengo il ritmo mantengo la prepenza resisto resisto tanto vediamo davanti a noi il recuperino quello breve ok ok mi chiedo recuperino colgo resistenza mantengo le 80 pedalate al minuto e vado a fare il recuperino di un minuto mi mi preparo siete pronti siete pronti da casa chiedono se il Piero ci vede ci vedrà secondo me secondo me è con la rosella e la rosella dirà ah no sei via sei qua con me e basta ci siamo e chiudo vado 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 due minuti il massimo tutto quello che ho in due minuti forza ciao ciao Quasi un minuto. Un minuto. Ancora. Rilassate le spalle. Mantenete la velocità. Tutto quello che avete. Trenta secondi. Quinti. Siete. Stop. Tolgo. Come va? Benissimo. Ce ne abbiamo solo due adesso. Abbiamo superato la metà. Un minuto. come va? non li vedo tanto rossi però perché sono lontana no non li vedo dici Federico che dovrei dubitare che fanno fatica secondo te sono tutti seduti sul divano bene riprendiamo il passo da casa dicono chiaramente abbiamo fatto di peggio di molto peggio è vero e faremo di molto peggio però siamo all'undicesima lezione insomma già abbiamo perso la Silvia alla prima lezione insomma non vorrei perdervi tutti nell'arco di quindici lezioni d'accordo rallentiamo volete sapere cosa ci sarà giovedì? non lo so non ve lo dico no niente non vi dico niente pian piano pian piano pian piano ci fermiamo maurezza fermo apprezza di andare a casa effettivamente abbiamo partito in ritardo abbiamo perso qualche minuto all'inizio respirone e giù e su tiro tiro scendo e apro le spalle appoggio le mani sul manovrio in piedi sui pedali gamba davanti piegata dietro peso tallone della gamba dietro verso terra verso il giro e cambio rimasciro rimasciro e giù stacco stacco tallone al gluteo e ginocchio e ginocchio al pezzo scendo e cambio e su si stanno scambiando segreti via lì scendo respiro ultimo e fuori tutto giù bravi stanno scambiando segreti e grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti